Martedì 5 dicembre ci troviamo a Firenze per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il tema della giornata è l'ambiente bagno. Più di 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante le aziende che hanno potuto raccontare le soluzioni innovative presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Il bagno anche secondo noi ha un valore aggiunto quello che è il bagno realizzato all'interno della casa. Non a caso noi abbiamo sviluppato questa linea che poi si è molto molto concretizzata all'interno proprio del bagno, diventa una caratterizzazione del bagno. Infatti oggi con i professionisti poi c'è stato questo dibattito dopo quando siamo venuti al desk perché comunque hanno visto in questo accessorio un accessorio molto particolare che va a caratterizzare i miei ambienti in maniera particolare. Quindi siamo oggi qui a Firenze, quindi non male abbiamo oggi quest'ultimo appuntamento dell'anno. Ha reso conto molto positivo, c'è stato comunque molto interesse anche oggi, quindi come tutti gli altri fortunatamente. E sicuramente oggi il tema dell'incontro era per noi fondamentale perché veniamo dal bagno, quindi lasciamo col bagno e oggi rappresentarci in questo convegno era molto importante perché comunque ci metteva un po' a conoscenza di tutto quello che era il mercato del bagno e della sua rappresentazione.